Ciao, Jun. Forse non sono stato abbastanza chiaro, ma noi dobbiamo restare insieme. Scusi, lei chi è? È il tizio. Sono il tizio. È quel tizio. Sono quel tizio. Sì. Roddy, senti qualunque cosa accada. Resti dov'è, per favore. Ma di che sta parlando? Ehi, ehi, ehi! Oh, oh! Tutti a terra! Che nessuno ci segua! Ho uccido prima me e poi lei. Roddy, Roddy! L'ho colpita di striscio, non ho preso l'osso nell'arteria femorale. Si riprenderà, forse le daranno una promozione, ok? Qualcuno verrà a cercarti adesso. Ti diranno che sono mentalmente instabile, violento e pericoloso. E sembreranno molto convincenti. Io sono già convinta. Fino a una settimana fa, Roy Miller era l'agente sotto copertura più fidato del mondo. Che è successo una settimana fa? Un distacco completo dalla realtà. Perché non l'ha uccisa? Penso di piacere. Ehi, Jun! Gran bel vestito! Scusa un attimo! Lì fuori sei da sola, le tue aspettative di vita dipendono da me. Con me qui, senza di me qui. Con me, senza. Con me, senza. La sta ingannando, è una spia, è questo che fa. Mi dispiace, è un riflesso. Io non so proprio a cosa credere. La mia opinione è che a volte le cose accadono per un motivo. Un treno! C'è un treno! Munizioni! Al tre, pronta? Uh-huh. Uno. No! Oh, mio Dio! Ah! Scusa. Mi ero spaventata. Che numero preferisci? Tre. Sì, facciamo al tre, va bene. Ok. All'altro. Quindi? All'altro.